Buona giornata e buona domenica dalla redazione di TV 12 pronti per incominciare un nuovo notiziario in diretta che apriamo con la situazione del maltempo e delle nevicate che stanno interessando la montagna del Friuli Venezia Giulia, come potete vedere dalle immagini in tempo reale delle webcam poste sui poli promotor della nostra regione, sta nevicando copiosamente sul Lussari dove è in funzione la telecabina, naturalmente solo per i pedoni al momento e per gli escursionisti in quanto le piste non sono ancora aperte, proprio oggi tra l'altro è attesa la decisione di Promoturismo FWG dopo un vertice tra i capi polo per capire quali saranno le ulteriori aperture degli impianti a partire da domani, sappiamo che dall'8 dicembre scorso, dal giorno dell'Immacolata, attualmente si può sciare solamente a Sella Nevea mentre sono aperti gli impianti funiviari sia su Lussari sia da Ravascretto verso lo Zoncolan dove c'è tra l'altro l'anello di fondo e per quanto riguarda poi la seggiovia Tremul sul Piancavallo, oggi sapremo dunque poi quali saranno le ulteriori aperture ma viste le nevicate in corso anche negli ultimi giorni sicuramente la possibilità per gli sciatori aumenterà. Poli Promoturismo che comunque stanno ricevendo ottimi riscontri da parte dei primi turisti, dei vacanzieri in questo inizio del mese festivo di dicembre e sono molte le iniziative anche in particolare a Sappada e noi siamo pronti a collegarci in diretta Skype con Monica Bertarelli che è la rappresentante del consorzio turistico di Sappada per chiederle dunque com'è la situazione e le tante iniziative che sono partite nella località. Buongiorno. Buongiorno David, buongiorno. A Sappada tutto bene, nevicava fino a pochi minuti fa, adesso sembra che si stia aprendo il cielo, abbiamo avuto quattro giorni molto intensi, sicuramente molti appassionati avrebbero voluto iniziare a indossare per la prima volta gli sci, hanno potuto farlo solo quelli che amano gli sci stretti, quindi il fondo, nella giornata dell'otto ha aperto parzialmente la pista, però per questi quattro giorni c'è stato Sappada, Natale del Borgo, un'iniziativa con un mercatino dell'artigianato in piazza Palù, con una serie di iniziative, ieri vediamo le immagini, si è esibito il coro Sorgenti del Piave, oggi ci saranno le canzonette natalizie alle 15 con le crunchy candies e poi lo spirito natalizio che si respira in questo lungo ponte dell'avvento, dicevo con gli espositori al mercatino di Sappada Natale nel Borgo. Abbiamo avuto il piacere tuttora, fino a questa sera, di avere delle eccellenze, anche se è un termine abusato, un produttore campione italiano di miele, ma anche l'ideatore di Spolert, questa meraviglia che vediamo, vi faccio vedere più tardi perché vedo che ci sono delle immagini di copertura, ma poi anche un panettone campione internazionale a diversi concorsi, l'artigianato, dicevo, anche gastronomico culinario con il dolce tipico delle valli del Nattisone, la gubana della nonna e poi l'associazionismo locale, si è voluto dare spazio anche a questo importante aspetto della comunità di Sappada e prodotti di alta qualità, tessili, dicevo alimentari, lignei. Abbiamo avuto un artista milanese che ha esposto e venduto le sue bellissime opere d'arte fatte di legno, recuperato e poi decorate. Vi ripeto, oggi ci sarà l'appuntamento appunto con le crunchy candies, poi Sappada attende con grande fermento tutta la comunità, gli special Olympics, quindi i campionati sulla neve dei ragazzi portatori di disabilità e arriveranno il 14 e animeranno la nostra bellissima vallata per tutta la settimana. Quindi sicuramente il tempo non è stato a nostro favore, bellissimo perché Sappada sotto la neve è splendida, però sappiamo insomma che tante volte i nostri turisti e gli ospiti si spaventano e quindi sono più prudenti e preferiscono magari fare rientro nelle loro abitazioni. Però siamo pienamente contenti di come si è svolto questo lungo, primo, fine settimana della stagione turistica invernale, soddisfatti gli operatori, soddisfatti i turisti, quindi insomma possiamo reputarci davvero contenti e soddisfatti. Tra l'altro Sappada si appresta anche a ricevere nei prossimi giorni i partecipanti ai giochi nazionali invernali degli Special Olympics, un'altra occasione insomma per popolare la vostra località. Certo, almeno 500 persone arriveranno, di cui 300 gli atleti, poi i familiari, gli accompagnatori e sarà la seconda volta a Sappada e siamo certi che sarà una grande festa, forse la più bella festa, con un clima incredibile di amicizia, di simpatia, di voglia di divertirsi e stare bene insieme, questi sono gli ospici, i presupposti ma anche una certezza perché ripeto è la seconda volta, è il primo appuntamento degli Special Olympics, è stato proprio tutto questo. Per quanto riguarda l'apertura degli impianti, dicevamo in apertura, scusate il gioco di parole del nostro notiziario, proprio oggi sono attese le decisioni da parte di Promoturismo, avete qualche anticipazione rispetto alle piste e agli impianti di Sappada? Allora no, al momento non sappiamo ancora niente, diciamo che dopo le nevicate di questi giorni si potrebbe prudenzialmente dire che le piste potrebbero essere pronte, logico che non è sufficiente la neve ma tutta la parte della sicurezza, della manutenzione di piste è fondamentale per garantire agli sciatori le prime sciate in totale sicurezza e che siano meravigliose come devono essere. È possibile che già dal prossimo fine settimana, visto anche che le temperature dovrebbero mantenersi sotto lo zero, si possa finalmente avviare la stagione sciistica, tutti ce l'aspettiamo. Davide mi permetto di dire anche che nelle scorse giornate abbiamo inaugurato un presepe bellissimo, fatto con i sassi del Piave e con il legno antico recuperato in posti improbabili da un nostro amico Franco Giordano, appassionato della nostra località e lo ha allestito uno il più grande a cima Sappada, mentre il secondo in una delle nostre tante pievi cappellette che si trovano nelle borgate vecchie. Quindi Sappada è anche questo, semplicemente una passeggiata per respirare il clima di 4-500 anni fa in queste vie che danno bella mostra delle strutture architettoniche di un tempo, assaporando proprio questo clima, vedendo bellissimi presepi che sono stati allestiti in maniera spontanea dagli abitanti delle borgate e poi queste installazioni che sono delle vere e proprie opere d'arte di artigianato ligno e non solo. Grazie, grazie a Monica Bertarelli e buon lavoro a tutti gli operatori turistici di Sappada così come a coloro i quali si apprestano ad affrontare la stagione invernale nelle località invernali della Friuli Venezia Giulia. Continueremo a tenervi aggiornati anche per quanto riguarda poi la situazione degli impianti sul fronte meteo, segnalate, nevicate in corso lungo l'autostrada A23 tra Carnia e il confine di Stato di Tarvisio con i mezzi spazzaneve e spargisale in azione per garantire la sicurezza lungo la tratta autostradale così come anche sulle strade locali. Ora ci spostiamo alla cronaca con un ennesimo grave incidente stradale accaduto nel corso della notte a Precenico, una donna è rimasta gravemente ferita nelle prime ore di oggi attorno alle 4 a seguito del sinistro che si è verificato lungo la ex provinciale 56 in via Lignano in direzione Pertegara. Le cause sono in corso d'accertamento, l'auto è andata a finire prima contro un palo e dopo in un fossato a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 assieme ai vigili del fuoco anche l'elissoccorso presente. La donna di 39 anni è stata trasportata in gravi condizioni in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Udine. Uno straniero invece privo di documenti non ancora identificato è la vittima del incidente ieri che si è verificato a Campoformino all'altezza di un passaggio a livello al 122 lungo la linea ferroviaria Udine-Pordenone. L'uomo è stato travolto dal convoglio che sopraggiungeva il regionale 1681-4 proveniente da Venezia diretto a Udine che trasportava una quarantina di passeggeri a bordo. L'investimento è caduto attorno alle 19-20 di ieri. Si tratterebbe di un incidente ed è escluso al momento il gesto volontario. Sul posto hanno lavorato i sanitari del 118, i vigili del fuoco, il personale di rete ferroviaria italiana, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Si sono registrati diversi ritardi anche per quanto riguarda le altre tratte ferroviarie che transitano sulla treste Udine-Venezia con una temporanea sospensione del traffico tra Basiliano e Udine. Ed ora torniamo allo scandalo del Qatar che sta travolgendo il Parlamento europeo, alcuni dei suoi principali rappresentanti, ma anche il sindacalista friulano Luca Visentini. Si allarga lo scandalo corruzione con la vicepresidente Caili, la greca, che è stata arrestata e sospesa dopo il ritrovamento in casa sua di sacchi di banconote provenienti, si sospetta da mazzette pagate dal Qatar per influenzare la reputazione del paese in Europa. Vediamo. Sacchi di banconote, fughe precipitose, imbarazzo generale, lo scandalo delle presunte tangenti del Qatar ad eurodeputati funzionari del Parlamento europeo si aggrava gettando nello sconforto il gruppo dei socialisti e molto probabilmente segnando la carriera politica di Eva Caili. La vicepresidente dell'Eurocamera è infatti agli arresti dopo che la polizia ha trovato nella sua abitazione borse piene di contanti, una flagranza di reato che ha polverizzato l'immunità di cui godono gli europarlamentari. I quattro italiani fermati venerdì, tra cui l'ex eurodeputato di PD e articolo 1 Antonio Panzeri, il sindacalista Luca Visentini e l'assistente parlamentare di Andrea Cozzolino, Francesco Giorgi, restano agli arresti e sulla convalida del fermo la procura di Bruxelles deciderà nelle prossime ore. Ma le perquisizioni sono proseguite, gli uffici di due assistenti parlamentari, una delle quali italiana legate agli eurodeputati Maria Rena e Marc Tarabella, entrambi belgi e membri del gruppo dell'alleanza progressista dei socialisti e dei democratici, sono stati sequestrati. Il padre di Caili è stato anche lui arrestato mentre, secondo il quotidiano Leco, stava fuggendo con una valigia zeppa di contanti. Immagini che danno la misura di un caso con pochi precedenti nelle istituzioni europee. I socialisti, dopo aver sospeso Caili, chiederanno che l'ex presentatrice televisiva greca sia sostituita. È difficile che a subentrare a Caili non sia un esponente socialista, ma fonti parlamentari non escludono che da un punto di vista politico l'inchiesta porti ad una sorta di isolamento dell'alleanza progressista e della sua compagine italiana in primo luogo. Sul fronte internazionale la situazione dei migranti che continua a interessare nel nostro paese. La nave Humanity 1 è giunta al porto di Bari, assegnato dal governo per far sbarcare 261 migranti che ha soccorso nei giorni scorsi in mare a bordo. È stato riferito da SOS Humanity persone con evidenti segni di tortura. Circa 200 migranti sono invece giunti a Reggio Calabria per lo sbarco del peschereccio intercettato ieri sera dalla guardia costiera a largo di Ebranca Leone. Sull'unità circa 400 persone, la seconda metà di loro viene accompagnata a Messina a bordo dello stesso rimorchiatore che ha trainato l'imbarcazione al molo 3 gennaio invece del porto di Salerno, attraccata la nave Geobarens con a bordo 248 migranti. Il governo assicura nessun passo indietro sulla politica dell'accoglienza. Continuiamo con le novità invece sul fronte economico. C'è un balzo del solare in Italia grazie al super bonus 110% e con l'utilizzo delle rinnovabili al 45% si potranno risparmiare fino a 25 miliardi. Vediamo. Si muove il mercato delle rinnovabili in Italia e con obiettivi più ambiziosi a 2030 i risparmi sulla bolletta del gas potrebbero arrivare a 25 miliardi in 5 anni. I dati vengono da due studi pubblicati, uno dall'industria del fotovoltaico, l'altro da un think tank ambientalista o londinese. Il rapporto realizzato da Solar Power Europe che rappresenta 280 organizzazioni della catena del valore del fotovoltaico da oltre 40 paesi racconta come la penisola sia diventata uno dei mercati più dinamici del solare domestico integrato con batterie grazie al bonus 110% e altri centivi. L'Italia è la più grande sorpresa del 2021, scrivono gli autori del rapporto. Secondo i dati Solar Power Europe, che tra sostenitori conta anche Enel e Eni, il mercato italiano ha avuto una crescita esponenziale a 321 MW installati l'anno scorso contro i 94 nel 2020, in aumento del 240% rispetto al 2020 e questo principalmente grazie alle condizioni molto vantaggiose del super bonus 110%. Ma non è solo il 110 a spingere il settore, le prime installazioni risalgono infatti al 2015. Da allora una crescita rapida grazie a incentivi disponibili da prima in Lombardia, poi in Veneto e Friuli, Venezia, Giulia e poi con l'estensione alle batterie dai credito di imposto del 50% per l'acquisto di un impianto fotovoltaico residenziale. Così nel 2021 l'Italia ha contribuito con l'11% delle installazioni totali di batterie domestiche in Europa, consolidando il suo secondo posto. La leadership è indiscutibilmente tedesca, ma l'Italia potrebbe raggiungere i livelli della Germania già quest'anno. Numeri che riguardano una nicchia, ma testimoniano una crescente attenzione al solare fai da te, dati che arrivano mentre i paesi UE ed Europarlamento discutono se aumentare l'obiettivo rinnovabile di 2030 dal 40 al 45%. Si discute poi sul bonus cultura con diverse valutazioni, i primi annunci di una sospensione del provvedimento da parte del governo Meloni, poi oggi una leggera marcia indietro. Nel frattempo si calcola anche il peso della lettura degli italiani sugli smartphone e online. I dati dell'Associazione Italiana Editori. Il 17% degli italiani dai 15 ai 74 anni legge solo su smartphone e online. Sono persone che fruiscono di contenuti editoriali sui social network, su siti specializzati o dedicati alla fanfiction, ma che non hanno familiarità con i libri, nemmeno in versione elettronica o audio. Questo secondo i dati dell'Associazione Italiana Editori, presentati nella terza giornata di Più Libri, Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, organizzata dall'Associazione, è in programma fino a domani alla Nuvola a Roma. La ricerca mostra anche come la percentuale di persone che rifiuta qualsiasi tipo di lettura sia in calo. È passata dal 16% nel 2017 al 14% nel 2019 per poi attestarsi all'11 nel 2022. La televisione si conferma il media di gran lunga più seguito dagli italiani per accedere ai mondi narrativi, agli approfondimenti culturali, alla divulgazione e alla manualistica. Crescono i social network, ma il libro, nelle sue versioni a stampa, ebook o audio, continua a giocare un ruolo importantissimo. In particolare, per quanto riguarda i mondi narrativi, la televisione in chiaro è la porta d'accesso per il 75% degli italiani, la pay tv per il 62%, il libro per il 53%, a pari merito con i social autoriali. YouTube è al 46%, il cinema al 36% e gli ebook al 31%. Per quanto riguarda i giovani, rientriamo in regione. Le borse di studio per gli studenti sportivi consegnate a otto ragazzi nelle scuole di Pordenone, dimostrazioni di come studi e sport si possano conciliare. Samantha Segat. Consegnate all'ex convento di San Francesco otto borse di studio studente sportivo che il comune di Pordenone eroga da oltre 20 anni agli studenti che si sono distinti per profitto scolastico e risultati sportivi, a dimostrazione di come le due sfere si possano conciliare e integrare. La borsa di studio consiste in un premio in denaro di 250 euro per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e di 350 euro per quelli della secondaria di secondo grado, oltre ad una targa del Panathon Club di Pordenone. Per la sezione dedicata alle scuole secondarie di primo grado sono stati premiati Francesca Codra, atleta di ginnastica ritmica, Alessia Lanzetta, schermidora, Elena Savian, nuotatrice e Daniele Coral, atleta di pesistica olimpica. Per la sezione dedicata alle scuole secondarie di secondo grado i premiati sono stati le ginnaste Elena Gaiot e Sara Delben, Andrea Tanzi, nuotatore e Paride Dragna, atleta di pesistica olimpica. Inoltre sono stati consegnati dei riconoscimenti anche agli atleti del Pordenonese che hanno vinto titoli prestigiosi a livello internazionale. Tra questi Giada Rossi, campionessa mondiale in singolare di tennis tavolo paralimpico, Manuela Scimonelli e Massimo Delcol, campioni mondiali di merengue, Rossella Viol, campionessa mondiale nei 10 km e vice campionessa mondiale nei 5 km di Nordic Walking nella categoria K70 e Gaspari Armata, miglior arbitro al mondo di Fioretto. Infine, all'associazione Parent Project, costituita da pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne, è stato consegnato l'assegno con il ricavato di 14.500 euro raccolti durante la prima edizione della corsa benetica PN Thlon del 22 ottobre scorso. Anche il Friuli ha il suo Altare della Patria, luogo simbolo dell'identità nazionale del sacrificio dei soldati nella Prima Guerra Mondiale ed è la città di Aquileia. A metterlo in luce il Presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zannin, che ha partecipato ieri alla cerimonia per i 90 anni della sezione locale degli Alpini di Aquileia. 90 anni del gruppo degli Alpini in una città come quella di Aquileia, che ho definito un Altare della Patria all'ennesima potenza, perché se è vero che il milito ignoto è sepolto nell'Altare della Patria a Roma, qui ci sono gli altri dieci che furono raccolti nei campi di battaglia più croenti della Prima Guerra Mondiale e qui riposa anche Maria Bergamas, la madre che individuò tra gli undici il milito ignoto che andò a Roma. Quindi un territorio, il cimitero degli eroi di Aquileia, nella quale viene rappresentato tutto il dolore e tutto anche l'elemento simbolico della Prima Guerra Mondiale attraverso il sacrificio di questi uomini. Gli Alpini ne sono custodi della memoria, sono coloro che al servizio della loro città esaltano quei valori di abnegazione, di dedizione, di amore per la patria, per la propria comunità che caratterizza questo corpo, al quale credo che anche i nuovi giovani, le nuove generazioni debbano guardare per avere dentro di loro quei valori, quella responsabilità che consenta loro di essere più liberi, di essere anche cittadini attivi della regione Fiumessa Giulia, ma dell'umanità in generale per il futuro. Annuele Zorino, sindaco di Aquileia, siamo qui per i 90 anni del gruppo Alpini. Quanto è importante per un sindaco avere la collaborazione degli Alpini? Io durante il corso della mia amministrazione ho molte certezze, una di queste è sicuramente quella di avere a fianco un gruppo Alpini che è sempre pronto alla chiamata e anche a stimolare con iniziative di vario genere, sia di carattere di sostegno alla comunità, ma anche proprio a livello proprio eventizio, in più di memoria, perché parliamo logicamente di Aquileia dove noi conserviamo il cimitero degli eroi, di cui loro sono custodi morali e sono anche coloro che hanno tenuto vivo questo ricordo, questa storia, grazie anche a un loro socio che oggi abbiamo ricordato nel corso di questa cerimonia di celebrazione del 90esimo appunto di fondazione del gruppo Alpini di Aquileia, il generale, già capo di stato maggiore dell'esercito Gianfranco Ottogalli, che era un socio appunto molto vicino al nostro gruppo e al nostro capogruppo Gianfranco Benvenuto e con lui hanno costruito proprio questa e hanno mantenuto viva la fiamma di questa memoria, una memoria importantissima di cui Aquileia è custode e che ci porta anche a essere responsabili. Quindi il gruppo Alpini rappresenta per l'amministrazione una parte fondamentale, fondante proprio anche di quella che sono le buone pratiche che si mettono a disposizione della comunità per costruire la comunità. E ora apriamo la pagina sportiva riproponendovi le immagini salienti della gara amichevole di ieri alla Dacia Arena tra l'Udinese e l'West Ham vinta dagli inglesi per 3 a 1 ma comunque con un'Udinese molto volitiva soprattutto nella prima frazione di gara. Con Stefano Giovampietro riviviamo il match. Buon pomeriggio, buon sabato amici appassionati bianconeri di TV12 un saluto dalla Dacia Arena dove si sta per giocare l'amichevole tra Udinese e Kingsley e Izibue, braccetto di destra mentre è cominciata la partita, il primo pallone toccato dall'Udinese subito perso da Samarzic. Bravissimo Festi, palla per Saxes, dentro per Ebosele, attenzione Ebosele che può andare dentro da Beto che potrebbe farla scorrere, diventa buona per Pereira! Il vantaggio dell'Udinese con il tucco Pereira pronto come un falco sulla destra a siglare il gol dell'1-0 al tredicesimo minuto. Udinese 1, West Ham 0. Va invece Fornals a battere dalla bandierina. Traiettoria morbida, il colpo di testa di poco alto da parte di Craig Dawson. Sempre Bowen con il mancino dalla bandierina. Traiettoria affilata, Dawson Silvestri! Scamacca esterno della rete, che parata! Per Ben Ramà, che vuole ancora sfidare Pereira. Ben Ramà, che gran palla dentro per Emerson Palmieri! Sul fondo di poco, Koufal. Ultima azione del primo tempo per il West Ham con il cross tagliato di Bowen. Silvestri è l'1-1 di Ben Ramà. Proprio all'ultima azione del primo tempo, il cross insidioso di Bowen, migliore in campo del West Ham con la deviazione questa volta di Silvestri imprecisa, imperfetta sul piede destro di Ben Ramà, che ha dovuto solo, praticamente, mettere l'interno del piede. E la palla è andata in fondo al sacco. Goal all'ultima azione per il West Ham. Parte Lovric, traversa! Clamorosa da parte di Lovric. Giocare qualche partita ufficiale con la primavera, che adesso si è detto pronto anche per la prima squadra. Grande palla lanciata per Beto, che è più veloce di Dawson, tanto per cambiare. Beto se la porta sul destro, non ha compagni da servire. Beto prova a fare tutto da solo! Batte Bowen di testa a Ogbonna e poi scamacca da un metro, la butta fuori. Gran giocata di Kingsley. Può calciare dalla distanza e la rete del West Ham. Con Lanzini, che ha freddato Padelli, bravo prima a rispondere a Bowen. Non perfetto qui sulla conclusione. E Bosele prova ad andare fino in fondo su Ben Johnson. E Bosele, imprendibile, palla a rimorchio. Arslan, Murato. Poi E Bosele ancora. Può andare da Bowen, interno della rete di rigore per Bowen. Palo da parte di Bowen, che la rimette dentro Antonio per il 3-1. Sfortunato Bowen, poi però bravissimo. Accedere alla voglia di tiro e a metterla al centro per Antonio, che ha dovuto soltanto depositarla in rete da un metro di distanza. Alla fine Fabianschi ci mette talmente tanto che l'arbitro dà il 3-1 in fischio, anche perché si continuava a battibeccare. Tra Arslan e Kufal, quindi meglio chiuderla qua prima che la situazione possa degenerare. Ed ora andiamo ad ascoltare anche alcune delle dichiarazioni rese a fine gara da mister Sottile. Bosele, Bosele anche lui, soprattutto a destra. È chiaro che poi per esigenze tattiche il primo tempo l'ha fatto a sinistra. È chiaro che a destra si trova più a suo agio, più il suo habitat tattico. Stiamo lavorando tanto con lui. Ha fatto secondo me bene la fase di costruzione, la fase offendente. deve migliorare e stare più attento sulla fase difendente. Ha preso qualche pallone sopra, però parliamo di un ragazzo che dal ritiro, a vederlo oggi contro un West Ham, è cresciuto moltissimo. Diciamo che gli infortunati stanno recuperando quasi tutti e sono sulla strada giusta. Questa è la cosa più importante. Penso che lunedì New Hitting rientra a completa disposizione. Giovedì dovrebbe rientrare Makhengo e Udoji. Stanno bene, ma devono solo completare gli ultimi due o tre giorni di ricondizionamento, di adattamento a entrare a 360 gradi con la squadra. Per quanto riguarda Beccao e De Luffeo, verso il 19, così è una data ipotetica del rientro. Diciamo che l'obiettivo è per le ultime due amichevoli avere la totalità del gruppo. Udinese che a proposito di amichevoli sabato prossimo affronterà l'Atletic Bilbao, un altro grande match dal fascino particolare. Ora invece andiamo a parlare del Porninone che questo pomeriggio sarà impegnato nel big match del Girone A della Serie C, il derby contro il Vicenza, che potrebbe decidere i nuovi equilibri in testa al Girone. Questo è il quadro completo della giornata, con la sfida tra Porninone e Vicenza che si giocherà al Teghil di Lignano. A proposito dell'incontro andiamo ad ascoltare il grande ex, l'allenatore dei Neroverdi, ma storica bandiera del Vicenza, Di Carlo. Sicuramente si incontrano due squadre forti destinate a provare a vincere questo campionato e a stare davanti. Poi sono sfide anche stimolanti, emozionanti per mille motivi e una sfida aperta a qualsiasi risultato, perché sappiamo bene quante sono queste sfide, bisogna essere attenti su tutto, sui particolari e poi una cornice di pubblico veramente straordinaria che si ha tanti tifosi di Vicenza, ma questo sapevamo già che loro sono sempre stati vicini alla squadra e i nostri tifosi, veramente ci sarà una bella partita da giocare e stimolante e aperta. Per arrivare ai tre punti bisogna prima di tutto vincere tanti duelli personali, singoli, dopo il cambio dell'allenatore da parte di Vicenza vediamo che gli effetti sono stati solo che positivi, perché hanno solo vinto, quindi complimenti veramente a Modesto e alla squadra che conosciamo bene, perché ci sono ancora tanti giocalciatori che hanno vinto il campionato con me in C e qualcuno ha giocato in B, so come sono fatti e hanno trovato solidità e vittorie, però devo affrontare anche un pordenone motivato, con voglia di riscatto, dobbiamo portare la partita sul nostro territorio e con i nostri ritmi e cercare di imporci soprattutto in quegli uno contro uno che alla fine faranno la differenza. Per quanto riguarda invece il Mondiale in Qatar, dopo la selezione di Argentina e Croazia, la seconda semifinale sarà Francia-Marocco. I Blues hanno battuto ieri l'Inghilterra 2-1, fatale per la formazione di Southgate, l'errore dal dischetto di Keen e a pochi minuti dalla fine. Poi c'è il Marocco che ha fatto l'impresa mandando a casa il Portogallo di Cristiano Ronaldo e portando l'Africa per la prima volta in semifinale di Coppa del Mondo. Il fischio finale è festa in tante città d'Italia, compresa Udine, questa è l'immagine che arriva da Borgo Stazione dove ieri sera si sono radunati in molti a festeggiare lo storico traguardo. A Milano invece Marocchino è rimasto ferito con una coltellata, l'aggressore sarebbe un uomo dell'Est Europa che poi è scappato. Per quanto riguarda il basket invece andiamo a vedere gli impegni con le grafiche delle formazioni friulane per quanto riguarda il girone della Serie A2, le sfide oggi in programma con l'Old Wild West che ospiterà il Carnera Forlì alle ore 18, mentre Cividale sarà impegnata a San Severo allo stesso orario la sfida. del Carnera poi ve la riproporremo stasera in differita alle 22.15, un ultimo flash di sport. A 33 anni la friulana Giulia Rizzi raggiunge la piena maturità schermistica e a Vancouver ha vinto dominando la sua prima gara di Coppa del Mondo nella categoria assoluti. Quella dell'Udinese è stata una cavalcata triunfale già dai turni eliminatori. La spadista in forza alle Fiamme Oro che da anni vive si allena in Francia nei dintorni di Parigi aveva iniziato giovedì con un girone eliminatorio da tutte vittorie l'accesso è diretto al tabellone principale. Ieri ha debutato nel turno da 64esima. Sono arrivati in sequenza i successi sulla Svizzera Brunner, sulla coreana Kang e poi all'assalto che ha dato la certezza di una medaglia sulla francese Mallot. L'ex allieva del maestro Roberto Piraino dell'ASU di Udin non si è fermata e ha continuato a macinare scherma con assoluta serenità superando l'ungherese Anna Kun per 15 a 11 e poi regolando in finale l'atleta di Hong Kong Man Wai Kong per 15 a 9. Oggi sarà in scena nella prova squadra l'Udinese è impegnata assieme alle compagne Federica Isola Rossella Fiammingo e Mara Navarria. Complimenti dunque a Giulia Rizzi. Siamo in chiusura vi ricordiamo gli appuntamenti per quanto riguarda la nostra giornata torneremo live alle 17.30 con Studio Sport tutte le notizie di giornata gli appuntamenti dal calcio al basket al volley e non solo e dopo la TG serale delle 20.15 alle 21.15 Giorgia Bortolossi ci racconterà il matrimonio perfetto con la partecipazione della wedding planner Caterina Gobetti e infine come dicevamo alle 22.15 vi proporremo in differita la sfida tra Old Well West e Forlì ci fermiamo qui grazie per averci seguito a tutti voi l'augurio di una buona domenica Amici di Udinese TV ben trovati in un aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo situazione per la giornata di domenica quando ancora un corpo nuvoloso interesserà le nostre regioni con annuvolamenti anche sul Friuli Venezia Giulia qualche sporadico fenomeno più probabile sulle basse pianure nel dettaglio Porto e Nonne Udine annuvolamenti irregolari in transito qualche fenomeno fiocchi di neve in montagna a quote basse freddo anche in Valpadana con massime sotto i 7-8 gradi per quanto riguarda Gorizia e Trieste della variabilità qualche goccia di pioggia locale piovasco ancora possibile in contesto di clima freddo tipicamente invernale lunedì invece torna il sole e torna la stabilità quindi un avvio di settimana momentaneamente più stabile e tranquillo dettagli maggiori li trovate scaricando l'app gratuita di Trapi Meteo e quindi è questo